Cambiare. Quante volte lo abbiamo fatto? Quante altre lo faremo? Cambiare strada, città, lavoro, scarpe, mode, passioni, obiettivi. Le possibilità sono infinite e quello che fa sempre la differenza, sempre, è la determinazione con cui affrontiamo il cambiamento. È una questione di metodo, di entusiasmo, di aprirsi a nuove possibilità, magari scoprirle, o anche perché no, inventarle. D'altronde, è grazie alle idee e alla loro evoluzione che miglioriamo noi stessi, la nostra vita e il nostro lavoro. Tutto cambia. Tutto è in movimento. A noi la scelta di trasformare i cambiamenti in opportunità. Passpartout. Evolving Solution. D'altronde Grazie a tutti.